papà dimmi figliolo che cos'è la felicità o figliolo mi chiedi che cos'è la felicità e va bene salta suo campione devi sapere che tutto nasce dai dettagli non una cosa qualunque un dettaglio un piccolissimo e microscopico dettaglio le piccole cose sono molto importanti in questa vita figliolo non te lo dimenticare mai guarda apri gli occhi ma fallo veramente cogli ogni attimo del tuo presente e non fatelo fuggire per nulla al mondo e osserva siamo nella nostra bella casa la tua dolce e meravigliosa mamma sta preparando una bella pietanza per noi e poi eccoci qui un papà e un figliolo che fanno un discorso profondo ecco tu mi chiedi che cos'è la felicità ed io figliolo non posso che dirti che la felicità è il bacco del corriere che aspettavo no 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 Grazie a tutti